Sicuramente viviamo in un periodo entusiasmante da un punto di vista dell'innovazione tecnologica. È il periodo della quarta rivoluzione industriale, quindi digitalizzazione, internet delle cose e industria 4.0. È proprio da questa industria 4.0 che prende il nome Lares 4.0, la nostra nuovissima centrale, la piattaforma IoT più evoluta del settore, che convoglia le funzionalità della sicurezza e del home and building automation. La presentiamo qui a sicurezza per la prima volta in via ufficiale ed è già disponibile per la vendita. Tutte le piattaforme IoT della nostra nuova Lares 4.0 hanno la caratteristica fondamentale di poter essere programmate e gestite attraverso il nostro portale Xenia Secure Web, senza necessità di aprire le porte del router e senza necessità di utilizzare alcun PC. I nostri installatori hanno a disposizione una nuova app chiamata Xenia Pro, attraverso la quale l'installatore può gestire l'impianto via tablet, senza necessità di alcun PC, geolocalizzando l'impianto, acquisendo la centrale con il QR code e ricevendo le notifiche push sullo stato dell'impianto. L'utente finale invece ha a disposizione una nuova app chiamata Lares 4.0, attraverso la quale può gestire l'impianto via tablet o via smartphone e con una user experience del tutto nuova, molto intuitiva e facilissima da utilizzare. Quindi la nostra nuova piattaforma IoT è la piattaforma più evoluta per quel che riguarda sia la sicurezza fisica, quindi controllo accessi, videocontrollo, antifurto, sia home e building automation e quindi gestione tapparella, temperatura, irrigazione, gestione luci e così via. Il tutto grazie a un numero di ingressi che è pari al numero di uscite. Nella versione più grande, che è quella a 644 ingressi e uscite, proponiamo la soluzione anche per il building automation. E questo fa sì che riusciamo ad offrire una soluzione la più performante che c'è nel mercato, sia per sicurezza sia per la domotica avanzata. Di norma gli installatori che si approcciano al nostro prodotto sono gli installatori professionali che in genere sono certificati, quindi installatori che convogliano nella loro professionalità le caratteristiche tipiche dell'antifurto, della sicurezza fisica, ma anche dell'home e building automation. Quindi sono normalmente installatori che hanno una professionalità più elevata e certificata rispetto agli altri.